Le piante da appartamento low cost le trovi da Lidl. Scopri le tre piante da appartamento low cost in vendita da Lidl fino al 15 settembre 2025 e porta un po' di verde nella tua casa senza spendere una fortuna. La Kentia, una piccola palma ornamentale dalle proprietà depurative, è disponibile da Lidl a soli 14,99 euro, ideale per il tuo salotto o terrazzo. Le Spati Fillum, perfette per chi non ha il pollice verde, sono in offerta da Lidl a 2,99 euro. Attenzione però a tenerle lontano dai bambini. Aggiungi un tocco di colore al tuo balcone con le Calluna Vulgaris in vendita da Lidl a 1,19 euro, minuscoli fiori che vanno dal bianco al viola.